Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Gioele capitolo 2, verso 16, un bellissimo verso, dove c'è un invito. Adunate il popolo, santificate l'Assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera noziale. Che bello! Questi grandi raduni che si facevano in Israele. Perché Dio prendeva degli uomini, profeti, portavoci di Dio, ed annunciavano l'urgenza che c'era in un momento difficile che stava attraversando il suo popolo. Perché quando si torna a Dio, Dio cambia le cose. È sempre così. Era così allora ed è così anche adesso. Però qui porta un'urgenza che è tremenda. Addirittura l'ultimo rigo dice che lo sposo che si è sposato, la sposa che si è sposata, devono lasciare il matrimonio in corso, cioè non devono neppure inaugurare il matrimonio perché c'è l'urgenza di tornare a Dio. Che raduni! Leggiamolo un'altra volta, così comprendiamo bene di che parliamo. Adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Cioè è un coinvolgimento totale del popolo. Esca lo sposo dalla sua camera. Come dire, stiamo rientrando, dobbiamo dormire insieme la prima volta e l'urgenza dice, lascia se ne parla un'altra volta. Perché c'era urgenza di tornare a Dio, era un momento particolare. Sai che questo è un momento particolare anche adesso? Solo che per fare dei raduni così grandi è impossibile perché non possiamo più farli. questo è un tempo come quello di Gioele. Vecchi bambini e persino lo sposo e la sposa devono rimandare la consumazione del matrimonio. Dio chiedeva un vero e proprio ravvedimento, un vero ritorno a Dio. Non pensi che sia il caso anche adesso? Penso che dobbiamo proprio tornare a Dio, ma con tutto il cuore. Questi raduni venivano spesso fatti. Leggiamo in Esodo 19, 10. Anche qui c'è un coinvolgimento del popolo. Allora il Signore disse a Mosè, «Vada al popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti». Signore aiutaci. Dato che allora non si riusciva a spiegare la purificazione del cuore come è ben spiegato nel Nuovo Testamento, Dio richiedeva un certo impegno di pulizia che li impegnava per comprendere che davanti a Dio dovevano essere puliti. Non c'era la cultura, era un popolo che era stato schiavo per 430 anni. Era così uscito che prima di tutto non sapevano leggere e scrivere. Secondo, restando schiavi per tutta la vita, generazioni voglio dire, per spiegare la purificazione del cuore. Era molto difficile, però Dio usava l'impegno di pulizia esterna. Così pian piano comprendevano che per piacere a Dio dovevano vivere una vita pulita e ordinata. Ma Dio voleva parlare di più al cuore, però loro non comprendevano. Dato che allora non si riusciva a spiegare la purificazione del cuore come è spiegato nel Nuovo Testamento, per incontrare Dio si traduceva in atti esteriori, come per esempio la circoncisione. La circoncisione serviva per far comprendere che ci doveva essere la circoncisione del cuore, cioè lo spogliamento della carne di peccato. Però come si faceva a spiegare? E allora Dio usava quel metodo. Mentre con noi è più facile. Se noi leggiamo, per esempio, in Colossesi, capitolo 2, verso 11, ci spiega che noi siamo circoncisi. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione a noi. Non è fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne peccaminosa, della nostra carne mondana, del sistema peccaminoso nel nostro corpo che viene spogliato come una banana. Signore, aiutaci. Bene, noi comprendiamo meglio, ma proprio perché comprendiamo meglio, anche noi abbiamo bisogno di un vero ritorno al Signore. Non solo lo dobbiamo fare personalmente, ma questo è il Vangelo. Gesù, quando ha iniziato a predicare, ha predicato il ravvedimento. Giovanni Battista, il ravvedimento. I profeti stanno parlando di questo. Gli apostoli parlano di questo. Noi, predicando il Vangelo, se non predichiamo il ravvedimento, il Vangelo non funziona perché un Vangelo senza il ravvedimento non porta salvezza. Senza il ravvedimento non c'è salvezza. Gesù ha detto che dobbiamo predicare il ravvedimento. Se leggiamo nell'ultima raccomandazione, in Luca 24, 47, Gesù ha dato ordine di predicare il ravvedimento per il perdono dei peccati. Guarda, è nel suo nome. Per mezzo dell'autorità di Cristo deve essere predicato il ravvedimento e quando andiamo al Signore riceviamo il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme e fino all'estremità della terra. che consiste, come abbiamo letto, nello spogliamento del corpo della carne questi atti esteriori richiedevano un impegno per far comprendere che dobbiamo essere lavati davanti a Dio. noi in questo tempo dobbiamo metterlo in pratica in prima persona e dobbiamo annunciare questo perché è un vero ritorno a Dio in questo modo vediamo le cose che cambiano. quando andiamo al Signore così secondo i principi biblici quei principi che servivano una volta servono anche adesso se leggiamo in secondo cronache capitolo 7 verso 14 quello che si faceva 3.000 anni fa anche oggi è la stessa cosa perciò per avere risultati dobbiamo fare così leggiamo secondo cronache 7 14 se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie io lo esaudirò dal cielo perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese un Vangelo senza la predicazione del ravvedimento non c'è perdono dei peccati perciò questo grido di profeti Gesù Giovanni Battista apostoli lo dico anch'io questa mattina perché questo è il Vangelo se no non hai risultati non vedi cambiamento nella tua vita dopo un po' di tempo ti scoraggi invece quando noi andiamo seriamente al Signore allora egli cambia tutto cambia cambia il sistema della nostra vita riversa la salvezza così come abbiamo cantato dobbiamo essere lavati davanti a Dio in secondo cronache capitolo 20 verso 13 ci fa vedere come questo funziona tutto Giuda perfino i loro bambini le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti al Signore qui c'era il re Giosafat aveva chiamato tutti a cercare il Signore riconoscendo che non c'è forza in noi questo re era un bravissimo re ma sapeva che lui non aveva forza e neppure il popolo ma poneva la sua fede nel Signore e noi così dobbiamo fare nel verso 12 leggiamo insieme Dio nostro non vorrai giudicarli c'erano delle contrazioni c'erano delle difficoltà il popolo vicino li stava schiavizzando un poco come fa Satana in questo momento nel mondo poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi noi non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su di te bellissimo questo è un resaggio beh impariamo anche noi ad essere saggi sai che noi contro il nemico non possiamo lottare da soli è astuto è un leone ruggente ma se noi guardiamo al Signore noi cammineremo di vittoria in vittoria alleluia in questo modo impariamo che in e con Dio possiamo questo è il metodo divino allora lo Spirito Santo intervenne in un modo potente così succede pure a noi leggiamo nel verso 14 sei meraviglioso Signore ti benediciamo per come tu ci parli allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'Assemblea Iaziel figlio di Zaccaria figlio di Benaia figlio di Ieiel figlio di Mattania in Levita tra i figli di Asaf beh se leggiamo dal verso 12 al verso 14 impariamo come dobbiamo andare al Signore perché questo metodo funziona in un modo speciale leggiamo dal verso 12 Dio nostro non vorrai giudicarli poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi noi non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su di te tutto Giuda perfino i loro bambini le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti al Signore Signore aiutarci e quando si misero in questa posizione allora lo spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Iaziel figlio di Zaccaria figlio di Benaia figlio di Ieiel figlio di Mattania in Levita tra i figli di Asaf lo spirito santo è e dà sempre la risposta e infatti il Signore che cosa dice in Zaccaria capitolo 4 verso 6 dice così poiché non è per forza né per potenza non sono i nostri muscoli non sono i nostri eserciti non per potenza né per forza mettici il verde sopra ma per lo spirito mio dice il Signore degli eserciti vogliamo chiedere al Signore che lo Spirito Santo intervenga questa mattina nei nostri bisogni che espanda la sua divina presenza su questa assemblea che lo Spirito Santo ti tocchi dove ti trovi mentre siamo in piedi nella sua presenza dico in piedi per dire che siamo posizionati nel nostro cuore che innalziamo lo sguardo verso il Signore proprio come facevano questi dicendo il nostro sguardo Signore è su di te e lo Spirito Santo ci viene in aiuto come abbiamo letto nel verso 15 dice allora lo Spirito del Signore il verso 14 allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea voglia lo Spirito Santo investire te questa mattina vogliamo pregare che lo Spirito Santo ti investa dove sei e tu possa sentire la sua presenza che io possa sentire la sua presenza questa mattina perché Dio è lo stesso Dio lo Spirito Santo è all'opera ed è proprio dove sei tu preghiamo che lo Spirito Santo possa toccare la tua vita questa mattina e esserti di aiuto portare quel soffio di vita nuova che ti rigenera che ti rinnova che ti fa sentire forte nel Signore mettiamo lo sguardo del nostro cuore Signore lo sguardo nostro è sopra di te questa mattina tu conosci i bisogni della sorella del fratello dico lei dico lui che siamo insieme Signore per amore del tuo nome abbassati col tuo santo spirito influenzala influenzalo influenza la sua vita la sua casa i suoi affari i suoi bisogni la sua famiglia i suoi figli e tutto ciò che fa Signore ti prego ti prego abbassa il tuo spirito santo influenzala influenzalo e benedici lo spirito santo benedici benedici la sua casa la sua famiglia le sue opere nel nome di Gesù te lo chiediamo sì 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 perché tu sei lo stesso Dio alleluia e noi siamo davanti a te questa mattina sì alleluia gloria a te Signore grazie 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 Zaccaria 4 6 dice così poiché non è per forza né per potenza ma per lo spirito mio dice il Signore degli eserciti se combattiamo secondo noi perdiamo ma se combattiamo secondo il Signore vinciamo secondo crona che vende i quindici leggiamo come si muove com'è bello Yassiel disse Yassiel disse porgete orecchio e parla anche a noi questa mattina voi tutti e voi abitanti di Gerusalemme e tu o re Giosafat c'è il re ma il re vuole dipendere da Dio così vi dice il Signore non temete non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine poiché questa non è battaglia vostra ma è di Dio alleluia gloria sia ressa al Signore se noi combattiamo secondo Dio vinciamo se combattiamo con le nostre forze siamo perdenti questo re era un re saggio non diceva io faccio io dico si sentivano senza forza leggiamo il verso 12 così impariamo come dobbiamo andare al Signore che sei grande Signore grazie Dio nostro non vorrai giudicarli poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi noi non sappiamo che fare ma gli occhi i nostri sono su di te questo vuol dire combattere se combattiamo secondo noi perdiamo se combattiamo secondo Dio vinciamo se ci immergiamo in colui che è il nostro re allora vinciamo in Colossesi capitolo Colossesi capitolo 2 verso 15 dice così leggiamo avendo spogliato i principati e le potestà Cristo ha vinto ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce sia benedetto il Signore nel verso 14 che sono chiedo scusa se secondo Dio vinciamo se secondo noi perdiamo leggiamo il verso 14 avendolo avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce inchiodandolo è una è una metafora che parla del nostro perdono Cristo ci ha perdonati questa è un'immagine che vuol dire che la condanna non sta più su di noi perché l'ha portata lui se leggiamo in Matteo 27 37 lui è stato dichiarato è morto al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna perché Gesù fu condannato perché lui si dichiarava di essere questo è il re questo è Gesù il re dei giudei egli era il re dei giudei ma i giudei non lo accettarono come tale ma se noi lo accettiamo come il nostro re con lui lui è superiore di Giosafat Giosafat si era reso completamente a Dio Gesù è Dio sei io e te facciamo diventare Gesù il nostro re lo scopo per il quale egli è morto perché egli è il re non fu accettato dai giudei ma quando noi lo riceviamo nella nostra vita come signore come re dei re signore dei signori allora comincia la vittoria hai ricevuto Gesù Cristo come tuo signore re salvatore se non lo hai fatto non fare come i giudei che lo rigettarono lui era il re ed è il re anzi egli è il re dei re non solo dei giudei lui è il re senza limiti non è sottoposta ad una nazione ai confini di un continente o dei cinque continenti egli è il re dei re senza limiti vuoi riceverlo questa mattina come il tuo re il tuo signore il tuo padrone perché con lui sarai più che vincitrice più che vincitore lui è stato condannato per questo ma si sono sbagliati non ci sbagliamo noi riceviamolo come il re della nostra vita senza fermarci e abbiamo Gesù come nostro re colui che domina su noi abbiamo vittoria nel capitolo 2 dei Colossesi verso 15 dice che abbiamo vittoria leggiamo perché lui ha spogliato i principati e le potestà ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce allora possiamo trionfare come dice in secondo corinzi capitolo 2 verso 14 ma grazie si onoresse a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza per questo annunciamo la salvezza allora possiamo trionfare come dice in secondo corinzi 2 14 è l'unico modo per poter vincere ma grazie si onoresse a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza in Romani 8 37 ci fa comprendere il senso spirituale di quello che dice dicendoci che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati questo vuol dire immergersi in Cristo e farlo diventare il nostro re il nostro signore colui che guida il nostro capitano come si presentò prima di entrare nella terra promessa davanti a Giosuè quando se lo vide davanti un personaggio con una spada sguainata non lo aveva mai visto nel suo esercito dice ma chi è questo e gli chiese ma chi sei uno dei nostri o dei nostri nemici e lui disse io sono il capitano dell'esercito dell'Eterno sono arrivato adesso per dire a Giosuè da questo momento in poi questa immagine scolpita nella tua mente ogni volta che devi affrontare una battaglia anche se non mi vedi fisicamente io sono colui che porto vittoria su vittoria e infatti fu così le mure di Gerico come candero una città fortificata che dovette far star zitti gli israeliti perché se no si sarebbero scoraggiati disse state zitti camminate per sette giorni perché se no lo scoraggiamento li prendeva chissà come si mettevano a mormorare contro Giosuè erano già abituati a mormorare nel deserto ma che razza come dobbiamo così si combatte camminiamo e si combatte così ma con Dio così si combatte perché è lui che vince la battaglia non siamo noi che significa che è Cristo stesso che sbaraglia il nemico e non ci sono ostacoli che ci fermano infatti San Paolo combatteva con le armi spirituali nel verso 38 dice così infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future poteva bloccarlo di proseguire né potenze né altezza né profondità né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore e così spandiamo il profumo di Cristo non il profumo quello che si mette si metteva fisico il profumo di Cristo la presenza del potere di Cristo che si manifesta nella vita dei credenti secondo Corinzi 2 15 e 16 leggiamolo noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione per questi un odore di morte perché li condanna che conduce a morte per quelli un odore di vita che conduce a vita e chi è sufficiente a queste cose l'unica cosa che dobbiamo fare non dobbiamo falsificare la parola mi voglio spiegare se noi predichiamo un Vangelo senza il ravvedimento senza il perdono dei peccati senza lo Spirito Santo che ci dà la potenza di poter camminare con Dio è un Vangelo che non funziona e poi ci scoraggiamo diventiamo demotivati addirittura tanti servitori del Signore che non predicano il Vangelo così com'è sono scoraggiati lasciano ultimamente tanti lasciano le chiese lasciano il ministero ma non è vero che non funziona il Vangelo non funzioniamo noi quando non predichiamo il Vangelo perché vogliamo accontentare le persone e noi gli diciamo la verità diciamo che tutto va bene noi dobbiamo predicare il Vangelo non dobbiamo falsificare la parola perché molte volte per favorire le persone e mantenerle buone ma poi non vedono è come avere un cancro e metterci la crema sopra il cancro rode sempre di più il peccato bisogna dichiararlo confessarlo e abbandonarlo se noi lo lasciamo crescere col passare del tempo diventa cancrena e dopo non si può fare più nulla falsificare la parola non aiuta e infatti c'è un Vangelo predicato in giro che non vediamo più i risvegli perché perché adattiamo il Vangelo al piacere degli orecchi di chi vuole ascoltare basta che gli dici che va tutto bene Dio è un Dio di amore non ti preoccupare come fai fai va tutto bene che va bene che va bene e poi succede quel che succede Signore aiutaci non dobbiamo falsificare il Vangelo nel verso 17 dice così noi non dobbiamo falsificare la parola di Dio ma dobbiamo parlare amministrare la parola con sincerità da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo cioè lo Spirito deve permeare la nostra vita e deve muovere lui stesso la nostra lingua quando parliamo di verità in verità come davanti a Dio con l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo non dobbiamo essere come quelli che parlano di altro e non di Cristo ma mossi da sincerità in presenza di Dio in stretta collaborazione con lo Spirito Santo se io ti dico una cosa per un'altra e ti predico un Vangelo che tutto va bene non vedi mai un cambiamento nella tua vita che serve non vedi mai che il Signore ti parla non senti un cambiamento vero se invece io ti dichiaro cosa dice il Vangelo e tu ti ravvedi e fai ciò che ti dico da parte del Signore vedi come prima testimonianza la tua vita che cambia e allora credi nel Vangelo e dici oh è così perché io sto avendo dei riscontri nella mia vita sento che lo Spirito Santo mi parla se invece tu resti come sei non cambia nulla dopo poco di tempo prendi il telecomatto e chiudi proprio perché non senti cambiamento è facile che hai fame di Dio ma io non ti do da mangiare la parola così com'è la adatto per piacere ai tuoi orecchi però poi non porta cambiamento che serve Romani 8 11 dice così che noi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo se lo Spirito di colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti abita in noi colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivifica anche i nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita dentro di noi cosa cambiò la scena quando c'era Giosafat lo Spirito del Signore leggiamo in secondo cronache 20 15 perché queste cose ci aiutano a comprendere quanto è importante che noi abbiamo la predisposizione spirituale dentro di noi perché è lo Spirito Santo che deve operare lo Spirito Santo è Dio leggiamo insieme 20 15 secondo cronache Yaziel Yaziel disse porgete orecchio voi tutti Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tu anche il re era incluso così vi dice il Signore non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio noi dobbiamo avere sempre Dio che opera dipendere da Lui dobbiamo dire quello che dice Lui ciò che dice la Sua parola senza timore il Vangelo così com'è c'era il re ma lo stesso doveva dipendere dal re sovrano da Dio leggiamo il verso 12 questi sono esempi che ci aiutano che noi non dobbiamo dipendere dalle nostre forze noi non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su di te così dobbiamo imparare a camminare noi dipendere dal Signore alleluia quando facciamo così vediamo la risposta leggiamo dal verso 16 al verso 18 questo ci insegna il metodo di Dio domani scendete contro di loro eccoli che vengono su per la salita di Sis Dio ci comincia a dare le strategie da seguire e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Ieruel questa battaglia non sarete voi a combatterla presentatevi tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà o Giuda o Gerusalemme non temete non vi sgomentate domani uscite contro di loro e il Signore mettici un verde sopra per piacere sarà con voi noi dobbiamo camminare con il Signore proprio così muoverci così ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo così dobbiamo camminare quando cominciamo a nascondersi a dire una cosa per un'altra ingarbugliamo le cose e non succede niente continuiamo a leggere fino al verso 18 allora Giosafat chinò la faccia a terra questo è il re e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono alleluia vedi quando noi camminiamo in sottomissione a Dio con riverenza e santo timore è Dio che combatte per noi sorella fratello questi sono i principi di Dio in questo modo restiamo freschi dopo la battaglia perché non abbiamo stress lo Spirito Santo combatte per noi ci ispira ci guida ci dà le strategie le risposte che dobbiamo dare Dio vuole un cuore predisposto di voler lasciare vivere lo Spirito Santo nel nostro corpo sai che noi siamo diventati il Tempio dello Spirito Santo dobbiamo mantenere un rapporto continuo con Lui Gioele è il profeta della Pentecoste che cosa dice rileggiamo Gioele 2.16 dice che noi ci dobbiamo impegnare alla santificazione adunate il popolo santificate l'assemblea adunate i vecchi bambini noi dobbiamo propagare il Vangelo a tutti negli anni della mia conversione tanti sono nati di nuovo ho continuato ad ammaestrarli sono anche andati al Signore ma salvati questo è importante perché non possiamo pensare solo ad un credente che nasce di nuovo e poi lo lasciamo abbandonato a se stesso che non sa no dobbiamo curare tutti i giorni accompagnarli fino alla fine questo è il pastore il pastore deve fare deve essere la passione di vedere agnelli che nascono curarli dargli da mangiare dargli da bere nutrirli perché possono portare frutto ma fino alla morte perseverare fino alla fine Signore grazie 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 oggi siamo molto presi non riusciamo a fare raduni come si facevano una volta in Esodo 19 10 abbiamo letto che per santificarli dovevano radunarsi leggiamo insieme allora il Signore disse a Mosè vada al popolo santificalo oggi e domani e fai e fa che si lavi le vesti non possiamo se d'accordo fare un grande raduno di tutta l'Italia come facciamo a farlo ma possiamo fare qualcosa non possiamo però possiamo in altro modo Dio ci ha aperto due porte da un lato tu entri con il Vangelo per la porta tu entri con il Nuovo Testamento per la porta da un lato tu entri col Vangelo e col Nuovo Testamento dall'altro entriamo noi con il digitale terrestre entriamo noi con i satelliti entriamo noi con tutti i social Dio ci ha facilitato il compito per ora lo dobbiamo fare questo canale fa dei grandi raduni non fisicamente ma raduni dove viene predicato il Vangelo ravvedimento fede nel Signore salvezza salvezza facciamolo sosteniamolo e collaboriamo anche questa è collaborazione quando tu vai a seminare fai due cose semini evangelizzi e noi lo facciamo di qua collaboriamo sosteniamo questa perché non possiamo andare non si possono fare le grandi le grandi riunioni però in questo modo raggiungiamo milioni di persone non ci fermiamo entriamo con il digitale terrestre canali satellitari e socials suoniamo la tromba infatti gioele nel capitolo 2 verso 15 dice leggiamolo gioele 2 15 suonate la tromba a Sion proclamate un digiuno convocate una solenne assemblea leggiamo il verso 16 adunate il popolo santificate l'assemblea adunate i vecchi i bambini e quelli che poppono ancora esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale ci sono altre immagini altre metafore leggiamo insieme secondo cronache 2 15 noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione in atti 2 17 e 18 dice così avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni i vostri vecchi sogneranno dei sogni anche anche sui mie servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno alleluia non possiamo fare grandi raduni ma possiamo raggiungere ogni giorno moltitudini perché Cristo il Vangelo deve essere predicato facciamolo Gesù ha detto in Matteo 24 14 questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo è il nostro turno lo dobbiamo fare noi Dio ci chiama a questo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine e la salvezza è a misura d'uomo ed è per chiunque noi dobbiamo annunciarla infatti nello stesso libro degli atti nel capitolo 2 verso 21 dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ma noi dobbiamo predicarlo come Gesù ha detto andate per noi è più facile di quando era per loro perciò non ci fermiamo continuiamo a predicare il Vangelo sosteniamo parole di vita perché ogni giorno il Vangelo sia predicato e tante anime si aprono a Dio perché la gente ha fame di Dio solo ma gli dobbiamo portare da mangiare se noi non gli portiamo il Vangelo il diavolo gli porta le zizzanie e cosa si sviluppa nei loro cuori le zizzanie mentre noi dobbiamo portare il seme della parola di Dio che cambia trasforma la vita perché Dio accompagna la sua parola con segni prodigi e miracoli impegniamoci insieme in questa opera consacriamoci a Dio e portiamo avanti l'opera sua ringraziamo Dio insieme signore ti ringraziamo per il fratello per la sorella per tutti coloro che sostengono questa opera grazie per quanti ascoltano e ricevono la tua parola continua a salvare continua ad operare continua a battezzare nello spirito santo e lo chiediamo insieme mio Dio nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org www.paroledivita.org